L'Italia, si sa, è la patria del buon cibo. Ogni regione potrebbe vantare almeno un prodotto conosciuto a livello internazionale. Ma se parliamo di Natale, c'è un simbolo che sulle nostre tavole unisce l'intero stivale, il panettone. Dolce dalla tradizione plurisecolare, si è voluto assieme alla storia del nostro paese, conservando però il fascino della tradizione. Se da un lato la produzione industriale è annualmente sempre più massiccia, sono numerosi gli esempi di chi ha scelto la strada dell'artigianalità, seguendo un percorso fatto di cura nei dettagli e coraggio nelle sperimentazioni, mantenendo sempre come primo obiettivo la qualità. E' questo il caso dell'azienda barese Fritz Cafè, che in vista delle festività ha unito le professionalità dei suoi pasticceri e quella del noto chef Michelangelo Sparapano, presentando la sua idea di artigianalità. Insieme abbiamo pensato alla creazione dei panettoni gourmet, puntando sulle materie prime d'eccellenza e sul valore estetico. Artigianalità significa cura nei dettagli, i soli in grado di offrire un risultato unico nel suo genere. A questo, realtà come il Fritz Cafè, ci aggiungono la passione di un'intera famiglia, impegnata costantemente nella sperimentazione, con l'obiettivo di migliorare le idee ogni giorno, per portare sulle tavole dei clienti un dolce che sappia rendere speciale una festa, onorandone la tradizione, senza però rinunciare a proposte originali sotto l'aspetto del gusto. In primis noi in famiglia scegliamo nuovi ingredienti per testare la qualità e proporre sempre nuove ricette ai nostri clienti. Un'attitudine che nasce dalla passione per il mestiere, passione che da sola oggi non basta. L'artigianalità, infatti, è una scelta sempre più diffusa tra le realtà che vogliono distinguersi sul mercato. La chiave di volta è senza dubbio l'originalità. Ispirazione e intuito però non bastano. Imprescindibile oggi è un percorso di formazione in grado di offrire gli strumenti necessari per trasformare un'idea originale in una soluzione vincente. In azienda puntiamo molto sulla formazione dedicata ad ogni singolo reparto, dal management allo sviluppo di risorse umane, alla caffetteria, alla pasticceria, perché per noi sono un ingrediente fondamentale del nostro successo. Anche in questo, realtà come il Fritz Caffè possono fare da esempio. Un'attività nata e cresciuta grazie alla passione della famiglia Lampugnani si è trasformata in pochi anni in una vera e propria azienda che oggi conta 5 locali, fra bar e bistrò. Grazie a tutti. Grazie a tutti.